Sono bastate poche ore agli investigatori per risolvere il giallo di San Ferdinando. Nel pomeriggio di ieri Giuseppe Cacciola si è consegnato ai carabinieri di Rosarno e accusato dell'omicidio di Domenico Pangallo, il 58enne di Roccaforte del Greco ucciso la notte del 26 giugno scorso nella cittadina dell'area portuale. Il fermo nei confronti del rosarnese era già stato spiccato dalla procura di Palmi, guidata da Ottavio Sferlaz e le perquisizioni a tappeto condotte dai militari dell'arma hanno spinto Cacciola a consegnarsi. Il quadro emerso dalle indagini è spaventoso. Cacciola infatti avrebbe ucciso Pangallo a mani nude colpendolo al volto e alla testa fino a quando il 58enne non è espirato. A quel punto il suo corpo è stato gettato per strada come un sacco di spazzatura. Il cadavere è stato scoperto poco dopo da alcuni passanti nei pressi del lungomare in via Puccini, a pochi metri dalla casa del presunto omicida. Secondo quanto emerso dall'inchiesta pare che Pangallo detto mico bicicletta intrattenesse una relazione su un social network con la moglie di Cacciola. Questi avrebbe scoperto tutto e obbligato la moglie a invitarlo a casa. Si trattava di una trappola appena giunto nell'abitazione della coppia a San Ferdinando e infatti Pangallo sarebbe stato massacrato di botte da Cacciola. L'arrestato è figlio di Gregorio e cugino della testimone di giustizia Maria Concetta, morta nell'agosto del 2011 in circostanza ancora da chiarire. Domattina il fermato verrà sentito dal jeep di Palmi per l'interrogatorio di garanzia. Al momento gli inquirenti stanno valutando la posizione di sua moglie. Francesca Altomonte per la Cineus 24.